musica 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 ma dove sono what the cazzo è sto posto musica ehi tu chi sei? no tu chi sei? vieni qua chi sei tu? parla, parlo o ti picchio ok basta ok, lo smettiamo ciao a tutti ragazzi, qui per il vostro sfultore Jake Smurry, oggi sono qua con Jumpy Tech no, così dicono, ogni tanto mi chiamano Lucia ogni tanto, gli altri giorni si chiama Lucia ehm, siamo qua con il secondo la nuova serie su Minecraft vai, a parole mie, vai di Minecraft ehm, come potete vedere dal titolo siamo in The Chamber of Creators 2 oh merda cazzo mi ha levato mezza vita scemo di me ehm, oh basta vedi che muoio, vedi che muoio ehm ehm in The Chamber of Creators 2 infatti appena ho scoperto che tipo c'era il sequel ehm, di questa della, della mappa ehm, l'ho provato a Jumpy e lui ho detto minga zio, facciamolo e quindi minga zio, vedi boffello e quindi siamo qua per farla ehm, leggevo subitamente subitamente, sì perfetto vai, vai, vai vai, morri ehm, le note intanto prendiamo tutto il necessario intanto siamo in Peaceful anche se siamo in Peaceful però esatto, non si sa mai vestiamoci di tutto appunto il casco me lo metto? no, sembra una vabbè sì, me lo metto ehm, ok welcome to benvenuti nella, nella seconda mappa leggi le regole e le raccomandazioni e you will find eh, ok prendi alcun, qualche nutrimento se non giochi in Peaceful non giochi in Peaceful però, lo facciamo ugualmente ehm e qua ok, leggiamo la prima perfetto guarda che scemo ok, leggiamo la prima nota ehm io sono vivo? what the fuck? sono morto sono confuso mhm dove sono? beh qui intorno sembra tutto così desolato ma è molto strano ho una vaga memoria della mia morte mi sono appena svegliato oh, scemo di merda vedi che ti sento il mio spa mi sono appena svegliato nella nel centro di un cimitero e infatti ci sono tipo delle catacombe aperte che bella ehm questo per quanto ne so io ehm dovrebbe dirmi che la morte non non rinasce per due volte ehm ok l'unica cosa che devo fare è scappare da questo cimitero e purtroppo l'unica via da prendere quella cripta l'infonto ehm bene spero che sia solamente io l'unico che mi sia risvegliato alla morte perfetto sono scese sto partendo olè lui già è partito olè ok io mi erno di spada jumpy non si sa mai l'ho già detto la texture pack vabbè si sto usando questa texture pack perchè è raccomandata dalla mappa quindi è la prima volta che uso una texture pack in un video diversa dal solito quindi speriamo ehm vada tutto bene ok perfetto no no shh shh fai silenzio ci sono i morti qua dentro shh shh speriamo che non ci sentano jumpy perchè non c'è una spada guarda xmurry ora te la metto nel di dietro ciao oh ma sei minchiavo è proprio un coglione vabbè no non puoi passare adesso non puoi passare coglione riprenditi perfetto ciao a tutti sono xmurry e sto a colacchia che demente ma sei for ok basta facci miseri ok no vieni a leggere qui c'è qualcosa per te non devi sminchare la mappa ok l'arma di mappa ok dove devo oh merda ok c'è punteggio lovely ehm no stranamente no vieni qua no perchè ho trovato l'ana gialla non so che devo farmene vieni qui 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 dice qui e io lo capisco capito fare la mappa no la mappa è figo è figo questo map sembra tutto medievale perfetto questa porta ehm dobbiamo staccare le due teste di due cavalieri delle due teste degli statui dei due cavalieri ah forse si riferisce alla alla fine della scorsa mappa quando eravamo nella stanza dei creatori forse devo devo trovare e ritornare riportare queste due teste nel loro ehm nel loro giusto posto per aprire la la porta noi siamo ehm ok oh what che ho fatto boh ho sentito una una porta aperta però non so quale sia stata what the fuck ok io forse ho capito cosa devo fare con questa lana e tu dove sei? devo mettere le teste dai no ma dove sei? ehm qui guarda è tipo una statua no l'ho preso un cd infatti mi sa che devo mettere sta cosa merda cos'è sto rumore c'è ok ho aperto una porta si è aperta una porta leva ho aperto un'altra porta what the fuck ora dove sono? ah guarda la porta era qui what? no l'è aperta è chiusa no no guarda io sono aspetta dove sei andando? se vi qua dove sono io c'è una porta sulla destra tu non la vedi di qua io sono entrato da qua Lolo questa musica è inquietante ah di brutto ok e c'è anche un'altra qua what? oh 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 guarda guarda ti ho aperto la porta qua vieni qua qua? dove cacchio? oh l'ha aperto il fatto ma sto esplorando bisogna trovare un altro pezzo di lana a quanto ho capito eh ma dove lo piazziamo poi l'altro pezzo di lana? mamma mia c'ho paura qui l'ho trovato dov'è? qui bisogna piazzarlo ah aspetta qui c'è qualcosa passamelo che io lo prendo perfetto una corazza d'oro lol prenditela a te guarda che figa questa custom map sembra tipo quella di non ti allontanare da questo punto perchè dobbiamo trovare l'altra merdaccia così almeno la ritroviamo rapida lol guarda come sono tamarro adesso grande sempre la corazza oh ho trovato il pezzo di lana sembra la corazza di dragone di meti resta lì sto arrivando perchè se no me lo scordo vai ottimo vediamo forse si... vai fammi piazzare a me così vedo no l'hai piazzato? si però non so se era giusto cosa ho fatto ce l'ho piazzata nel po' che c'era qua si ha aperto una porta hai aperto tu questa? chest vuoto io ho preso il pezzo di lana ah la seconda la seconda qua c'è una porta mai chiusa oh merda oh merda jumpy cos'è questo rumore what the fuck? è brutto è brutto io c'ho paura vediamo no sta porta non si è aperta ehhh io ho trovato un posto per due blocchi eh si è la prima no ma aspetta due ne ho piazzate eh no uno solo l'altro dovremmo trovare l'altra stato no? ma sei idiota l'ho piazzato qui guarda ah l'hai piazzato pure? qui come on go here qui guarda l'ho piazzato ok e l'altro? l'ho messo all'altra parte le statue sono identiche ma dov'è l'altra statua? ecco sti gran cazzo vado avala aspetta ok quindi tu sicuro che sei salito su due statui? si ne ho piazzate due fidati forse deve essere leggi lint 0 ok lo leggo o st no vieni da me così ti faccio vedere come lo devi piazzare lo devi piazzare sopra o merda ho aperto qualcosa lo devi piazzare sopra il blocco rosso Giampi si è aperto qualcosa Ho sentito tipo pistoni Minchia O stavano fappando oppure si sono aperti i pistoni E porco Ok mettilo Perfetto lui ha sminchiato tutto Nooo Dammi il blocco Dove l'hai messo? Lo devo mettere sul rosso? Si Perfetto E tu l'hai fatto anche sul rosso? Si Perfetto Quindi adesso ritorniamo alla porta dove era prima I suppose Perfetto Ok basta Giampi Mamma mia che volgarità Ok Perfetto Oh si è aperto Quanto sono t'amara con questa skin Oh merda E adesso? Read note 2 Perfetto Wow che figo Che figo Ok la leggo Note 2 Oh la merda quanto è grossa Ok Ok You take a long and surrounding herion Ok Ciao al veroe Io Dove sono? Chi sei? Capisco Che hai molte domande per me E ti E farò di tutto Nelle mie potenzialità Per risponderti Il più accuratamente possibile Le mie scuse Come avrei probabilmente capito Ti sto parlando Nella tua testa Perfetto Uno psicopatico Vedi Non ho un corpo Io non ho un mio corpo Quindi Non riesco ad apparirti Di fronte Qualcosa di difficile Da spiegarti Cosa realmente sono Quindi Fammi capire Tu sei un dio Che stai parlando Che mi stai parlando Tramite la mia testa? Esatto Perfetto Finito? Tu? No Perfetto lo dice lui Quindi tu Vuoi dire che io sono Realmente Rinato dalla morte? E tu sei uno di questi Responsabili perciò? Sì Io ti ho Fatto resuscitare dalla morte Questa città È In pericolo E E io Ho bisogno che tu la salvi Perfetto It surfers Oddio We need to put Stop Dobbiamo fermare Dobbiamo fermare qualcosa Jumpy Però non capisco cosa Perché io? Non sono niente di speciale Beh Gli eroi Sono Sono difficili Da 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 portare qua Il mondo non è completamente vuoto Vuoi dire che non ho nessuna Nessuna scelta? Sì Perfetto Destroy for torres Check Perfetto Dobbiamo distruggere quattro torri Ok non l'ho letto tutto perché ti giuro È una pagina di nota Eeeh Shambi Shambi Comunque Guarda stiamo vedendo Merda murrai di nuovo Cosa vuole da me questo murrai? Hai visto che il paesaggio Per il Il paesino è quello della stessa Della prima mappa Solo che tipo Nel futuro Ci sono tipo delle basi C'è la chiesa distrutta Tipo Tutte le Le ragnatele Non ci credo Vero? Sì Fidati guarda Lì c'è la gelvin house Qui c'era una barca Ma adesso c'è tipo qualcosa Infatti la barca non c'è più Lì c'è il ponte Lì c'è la library Ast Ok Ok allora Quindi che dobbiamo fare in teoria? Di... C'è la foto di quella Di una torre Quella torre vieni Dobbiamo andare in quella torre sicuramente Ho trovato delle piume Io prendo tutto Here lives Simon Merda Qua infatti è tutto allagato Qua vive Simon Tipo a modo di istruzione Ok vieni qua Aspetta io sto esplorando un pochetto Che vieni qua Sei pazzo Oh merda Ehm It's good for you Dobbiamo esplorare più che altro Oh cazzo Ok Finché non capiamo il da farsi Ok perfetto Ok c'è il faro crollato Ast Ti ricordi il bellissimo faro crollato Da oltre Si Ast E ci sta da dentro No aspetta Devo salire in un punto alto Devo trovare la torre che Dov'è la torre Eccola là Ok Oh Merda perfetto Mi sono fatto male Jumpy mi devi seguire Ma cosa stai facendo Io sono tipo sul cura al mondo Eh io sto andando sulla torre Quella nera e arancione Ok arrivo Eh dopo il ponte Ci vedo Ci sono già sotto Qual è Sto arrivando Ci sei già sotto Mi sa di no Si Oh cazzo Ok sto salendo No sto scendendo Oddio mio Read not five What the fuck Ok 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 Mi sa che Che testa di marta Mi sa che Non soffiamo andare qua Guarda che io sono Dentro una torre Vedi E dove cazzo Oh e c'è Un indovinello già No aspetta Dobbiamo trovare Dove trovare il ridotto React in tono If you can solve the puzzle Visto che testa di merda Ok ma Aspetta vediamo se X porri di merda Qui guarda L'unica torre che c'è Dove c'è il faro abbattuto Madonna Il faro abbattuto Aspetta Dove c'era la chiesa C'era il cimitero Dove siamo usciti Ok sto arrivando O Gesù Cristo Ma io stavo andato All'altro In quale torre sei andato Non dovesse farmi capire Eh in quella che era rappresentata Nell'immagine delle int Ok ti vedo Ti vedo Guarda dove sono Sono sul Perfetto Lì sto andando Nell'altra torre Ah Quella mi sa Tipo che è l'ultima da fare Poi da qui se ne vedo Se ne intravedo un'altra Ah ok sono tante Eh io sono andato in una torre Eh ogni torre Contiene un puzzle da risolvere Eh però andiamo con ordine Cacchio Guarda Che vuoi L'all è abbucato Ah il faro distrutto Tipo Oh Bella torre Lì c'è lei Readint one Quindi credo sia questo Allora esatto Sì credo sia questo Però comunque mi esplorerei Tutte le varie vecchie location Per Vivatel Voglio andare a visitare la library Per vedere che è successo Vero E quello era tipo il Oh merda Ok scendiamo Oh Adesso si No per dio Di un altro indovinare Ah guarda Perfetto All dold off All All dold off All Perfetto Oh Oh no Oh no Cazzo Cazzo No no siamo morti Siamo mortissimi Jumpy Lo sai che siamo morti Vero Merda Merda Cazzo Cazzo Oh Petroi Merda 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 Ok passa Passa Sattraverso le fiamme Chi ha aperto? Boh Sto piegando fuoco Ok Io no Ho aperto Merda Mi hai fatto bordello Non hai aperto Vieni 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 Dove sei? Oh cazzo In questa custom Oh me Con questa texture pack si vedono tipo delle facce Invece ho un'idea Puttana Noi già abbiamo distrutto sta prima torre Come vedere Non so se sono sicura Ma non so se l'abbiamo distrutta E infatti l'è distrutta Vero vediamo? Sì Non è più tipo in alto Non c'è più il discorso Il discorso Oh me Ok Ma c'era un puzzle Io non l'ho capita sta cosa Ce ne abbiamo tirato What? Abbiamo distrutto tutto Cioè diceva di distruggere le torri no? Sì Perfetto Che schifo Perché l'abbiamo distrutto Cioè oddio Vediamo se qua ci sono No No Vabbè Andiamo Andiamo a vedere le altre location Andiamo a vedere le altre torri Che merda Anche se no Non ho ben capito Oh Ok Ok piano giapi Siamo da soli qui Che merda Vero Perché è tutto il mondo morto Finito Aspetta qua c'è un buco enorme Ah c'è un po' Anche della redstone Ok non c'è La gelvin house Dov'è? Qui Vediamo se c'è ancora il bottone No che merda Ah si Asd c'è il bottone Solo che è fuori servizio Out of service Log Vediamo Dove sei? Dove sei? Io non ti vedo Aspetta forse ho trovato dei cartelli Voglio andare a leggere Ok io ti vedo Perfetto Submarine base Sì me la ricordo Sì me la ricordo E merda Si apre? Sì ma non ci voglio andare Perfetto Vediamo vediamo Allora Cosa vuoi Oh Sono avuto l'acqua Vediamo qui Allora Scombar Oh it seems like piratis Finally lost it Perfetto Cos'era questo? La reception di qualcosa Ok niente